stiamo giocando con le macchinine radiocomandate, buon tornare dal vostro UGF85 e da Giras98, saluta ciao! stiamo provando a giocare con le macchinine, il problema è che lei non guida così nella realtà, lei guida peggio nella realtà, no, guida molto meglio, la su c'è la mia, che adesso ve la presento, se venisse giù un po' più, eccola qua, è la stessa macchina, la Range Rover però bianca lei l'ha presa invece nera e bordo, come il soldino, guarda che si va anche in avanti e non solo indietro occhio, ecco perché ce l'ha di vicino la mia, perfetto, diciamo che avevamo già consumato tre quarti di batteria, saluto a tutti, è stato bello, ciao a tutti, ragazzi vi saluto, ci vediamo, siamo qua insieme, ciao a tutti, noi continuiamo a giocare con le macchinine ovviamente e comunque sono macchinine da, scusate, abbiamo invaso la strada, sono macchinine da, abbiamo pagato 30 euro neanche sì, un bel po' per me, 29, 29,99, è un prezzo abbastanza alto lo stesso però per una volta facciamo una follia vi saluto a tutti, ciao, ciao e ciao